Allora, io direi di cominciare il caso Acerbi... Scusa, scusa? Farò poi un parallelismo quando parleremo di Acerbi sull'onere della prova con il caso Acerbi e con quello che è stato di Moggi Giraudo. Perfetto, perfetto, perché anche sul discorso onere della prova in diritto sportivo insomma c'è un po' una differenza anche sostanziale rispetto al diritto ordinario. Allora, io direi di cominciare con l'articolo 28. Perché? Che cosa succede? Succede che qualora venisse condannato Acerbi per l'insulto razzista verrebbe condannato per la violazione di questo articolo. E attenzione, perché, ma poi ne parliamo, volevo andare da Elena anche per questo non c'è la possibilità di patteggiamento, poi la spieghiamo meglio ve la dico in soldoni perché praticamente è il giudice sportivo che ha chiesto aiuto alla Procura federale e quindi non ci può essere un patteggiamento o non gli dà le giornate di squalifica o gliene dà almeno 10. Se invece fosse un fascicolo aperto in maniera autonoma dalla Procura federale in fase di ascolto avrebbe potuto anche intraprendere la strada del patteggiamento. Ma così, a sensazione, ragazzi, cosa ne pensate? Io vorrei cominciare dal diretto interessato, prima di tutto, che è fusato. Tra l'altro abbiamo le dichiarazioni di Turam dal ritiro francese. Di fatto, insomma, sprona il compagno a dire la verità. Questo qui del razzismo è un tema molto delicato che poi è anche difficile argomentare nel momento in cui si travasa il tutto su un campo di calcio. Perché sappiamo benissimo come, sbagliando molte volte, lo stadio ovatti un attimino la vita normale. Perché tu trovi i ragionieri, gli impiegati, quelli che vanno allo stadio e diventano delle persone e poi quando escono sono delle altre. Io credo che per il tipo di calcio che c'è oggi, per il tipo di movimento che i bambini continuano a vedere, un giocatore professionista che fa comunque dello spettacolo debba contare fino a dieci per fare qualsiasi tipo di cosa. Io non entro nel merito del dire se gli ha detto una cosa piuttosto che un'altra. Perché ad oggi, seppur Acerbi verrà condannato, credo anche perché non serve molte volte una prova più esigenciante, però ad oggi non c'è un labiale, non c'è una telecamera che faccia vedere che Acerbi ha detto... C'è una dimostrazione di... Stiamo cercandolo però. Sì, no, no, ma ci mancherebbe. Ad oggi c'è Juan Jesus che va dall'arbitro e segnala questa cosa. Perché non c'è nulla? Perché in realtà dei fatti per la giuriscrizione sportiva il giudice sportivo, non avendo materiale per poter intervenire, perché se l'arbitro avesse scritto ho sentito Acerbi dare a Juan Jesus, partivano in automatico le squalifiche. Quindi è una situazione un po' intricata. Dopodiché qualcosa è successo, ma secondo me molte volte, ecco perché dico che i giocatori devono contare fino a 10, perché su queste cose io sono molto lineare, come si parlava anche per altri casi, cioè tu quando vieni coinvolto in una cosa del genere devi assolutamente stare zitto o parlare con la società. E la cosa che fa purtroppo la differenza sono quelle dichiarazioni, secondo me incaute, che rilascia Acerbi quando entra alla stazione di Milano. Perché lì dà adito a Juan Jesus dell'incaricazione. Allora, Juan Jesus l'aveva un attimino fatta pari e patta, sono già cose di campo, si sono abbracciati alla fine della partita, molto probabilmente avrebbe preso delle squalifiche, non lo so, però era finita lì, in un certo senso. Dicendo, non ho detto frasi razziste, io, seppur interista fino alla pelle, se uno riva in televisione a metterci la faccia e dire non è vero che hai detto così, forse è un fondo di verità. Mi stai dando anche del bugiardo. Forse è un fondo di verità. No, ma non bugiardo no, però comunque è un ciurlale nel malico, secondo me. Beh, Juan Jesus si è sentito, quindi io su questa cosa sono abbastanza lineato con la critica. Detto questo, hai fatto bene, tu pagherà, ci mancherebbe se devi pagare. Hai fatto molto bene a far vedere quell'articolo lì, perché io spero che questa cosa qua oggi serva come giurisprudenza, perché qui non parla solo di razza, di colore, ma parla anche di lingua e di sesso e di nazionalità. Molte volte si sente dire zingaro di, oppure si dice, ti ricordi Sari con Mancini, che gli aveva dato del, ecco. No, certo, come no. In tutti i casi, sempre perché, sempre perché ormai il calcio è diventato business, spettacolo, e da educazione. Certo, certo, e poi perché un domani, a parte che lui ne esce male. Ma è esemplare, poi ci sono delle regole. Per tutto questo, per carità, la società prenderà dei provvedimenti in base, secondo me, e si è comporata in modo coerente, cioè non è andata subito a botta a fare un comunicato dopo la partita, ha voluto parlare con il giocatore, il quale ha preso la sua posizione. Poi, sai, queste cose qua, in un modo o nell'altro, segnano comunque, perché se viene squalificato i dieci giornate, secondo me, e bisogna dare addito alla giustizia, perché ci devi credere anche quando ti colpisce, non solo quando colpisce gli altri, a Cerbi rischia anche la risoluzione del contratto, anche perché l'Inter, in più di un'occasione, ha dimostrato di essere contro l'azzismo, eccetera. Ma ti giochi, se non gli danno le squalifiche, ci va di mezzo comunque l'Inter, per assurdo, perché dicono, ancora una volta, l'avete fatta franca, in questo caso l'Inter, secondo me, non c'entra nulla, come non c'entra... Però l'Inter, scusa, io, allora, non c'entra niente, cioè, a Cerbi dice, non ho detto, assolutamente non ho detto frasi razziste, poi dice, no, ho detto, ti faccio nero, no? Ma l'Inter in tutto questo, mi pare, cioè, mentre Spalletti... Ha un ragazzo di colore? Sì, sì, ma non è... Sì, ma quello può essere, ho capito. Certo, può essere. No, va bene. Può essere secondo cosa? Chi è che lo stabilisce cosa può essere? No, però non credo che il ti faccio nero sarebbe... Sì, allora, lì posso credere... È ovvio che è anche uno che chiama in modo errato, come è uscito al primo... Ma a quel punto... Ragazzi... Fra, perdonami, io sono stato lineare nell'esposizione. Non mi sembra di avere... Ti faccio nero. Io però... Non credo che... Non è che devo venire di poter forza. No, però se tu dici... Ma lì non guardi, se tu non dai importanza al colore della pelle, non vedi neanche che di fronte a te c'è un ragazzo di colore. Non è un ragazzo di colore. gli dici... Ho capito. No, perché se tu non sei per niente, non hai nel tuo DNA la discriminazione, ti faccio nero lo dice a chiunque. Poi, è una frase minacciosa, ma non è razzista, ti faccio nero. Cioè, non lo diventa se la persona in questione è di colore. Tanto è vero che Juan Jesus non dice... Non puoi chiederlo a chi è preso nella situazione. Per carità. Secondo me è un po' estremizzato. Io sono per la linea dura, ma tanto è vero che Juan Jesus dice... Mi ha detto sei un negro. Non è la parola nero o con la G che cambia. E' il concetto di come lo dici, la discriminante è come tu lo utilizzi. Visto che Juan Jesus va a dire ti faccio nero e poi aggiunge un pezzo, perché Juan Jesus quello dice. Ti faccio nero, virgola N è un'altra parola. Juan Jesus racconta questo. L'arbitro richiama, c'è il viso dove l'arbitro richiama Acerbi, dice Acerbi stia qua, stia tranquillo. Poi arriva Di Marco, si mette la mano davanti alla bocca. Io sono d'accordo. Lì non c'è, non si vede mai l'immagine di Acerbi che dice la parola incriminata. Ma dire comunque al ragazzo di colore ti faccio nero è fuori luogo lo stesso. Allora, questo sicuramente. Io avevo capito che non fosse ti faccio nero e poi in conseguenza... Una perta apparente è una battuta. Forse sono due robe diverse. Come si fa a far nero un ragazzo di colore? Ma non... Ma no, ma non... Adesso. È una battuta, dai. Non credo che Juan Jesus si sia offeso per questo. Non ho capito che... Lui ha detto, gli ha detto, sei solo un... Mi fa proprio brutto anche ripeterlo. No, ma sono d'accordo con te. Non è roba da dire. Poi, sono d'accordo con te che certe cose... Se lui avesse detto ti faccio nero, virgola, quella roba lì, io non ho capito... Juan Jesus questo dice. Io non avevo capito il ti faccio nero. Perché Juan Jesus parla di... No, sei solo un... Con l'arbitro indica la cosa del razzismo sul braccio? Perché Di Marco un secondo dopo arriva e si mette le mani davanti alla bocca per dire qualcosa? Ma Di Marco dice, occhio, così lo fai squalificare. Sì, sì, ma per la parola sei solo un... Poi dopo, lui lo rincorre e gli dice, non sono razzista, lo sai, e lì Juan Jesus lo spinge via. Cioè, non c'è la prova della parola... Visto che la parola indirminata è negro, non c'è la prova ad oggi che lui dica negro. Però c'è la prova delle scuse, c'è la prova del comportamento di Juan Jesus. La stanno cercando tra l'altro, in questo momento esatto, stanno cercando di capire se c'è o non c'è perché potrebbe non esserci nulla, ok? Però, perdonami. Però non torna, perdonami, non torna. Ancora una volta nella Federcalcio tutto quello che combina. Perché se tu mi mandi a casa a Cerbi, dopo che ha parlato con Spalletti, e la Federcalcio interviene dicendo lui non ha detto la parola negro, scusami, Gravina cosa deve fare? No, ma io non entro nel merito perché non è... No, è un altro male che tu hai fatto. No, no, però... Se per caso è successo, cosa fa poi Gravina? Certo, è un altro... Cioè, perché mandi via allora a Cerbi dall'Italia? Perché ci dicono che è un altro dovuto... Ciao, cretino? No, ci dicono che sotto indagine un giocatore non può indossare la maglia da Nazionale. Per quale motivo? Perché c'è questa procedura in corso che può essere annullata o può essere confermata. Ma ragazzi, cosa farei... Come quando Fagioli e compagnia hanno abbandonato il ritiro. Ma lì c'erano già delle carte in mano. Sì, però non c'era una condanna precisa, capisci? Quando lasci il ritiro è perché è partito preso devi comunque prendere le distanze. Detto questo, però... Se uno non ha detto niente e parla con la federazione e parla con Spalletti dice io non ho detto niente in tuo ciò, ho detto vai a fare incuropirla, scusami il termine. Però stai dicendo la stessa cosa che ti dico io. Non c'è la controprova, allontanati un attimo. Mi sembra che Turano anche oggi... Allontano perché non c'è la controprova? Allora, Turano... No, perché comunque c'è questa indagine in corso. Turano, compagno di squadra fa capire invece che bisogna parlare in modo diverso del razzismo. Assolutamente. Che è un suo compagno tra l'altro di colore. Secondo me gli tira le orecchie sul fatto che ha parlato ripeto alla stazione non doveva dire niente e doveva parlare con la società. Malissimo. Detto questo, però Juan Jesus si contraddice un attimino quando va dall'arbitro cioè per mio parere quando va dall'arbitro a lamentarsi e poi la tramuta in sono cose di campo. Sì, sì. Cioè questa cosa... Ma perché alla fine non vuole far casino lui. Non vuole cercare di non fare danno all'altro. Perché di Marco qualcosa secondo me va a dirgli con la mano davanti a bocca sta attento che con una roba del genere se l'ha detto e lo racconti... Però stiamo parlando di tutti... Ma infatti secondo me Juan Jesus è stato signore più di una volta perdonando a Cervi dicendo che sono cose di campo che finiscono lì cercando anche di salvarlo. Poi si è arrabbiato nel momento in cui a Cervi dice non è vero. Se lui mi dice pirla ok. Ma in campo vuole dire più di pirla. Se lui mi dice pirla e poi io e lui ci chiariamo e poi amici ok tutto a posto. Poi io leggo il giornale ho pini e fu usato un pirla allora mi incavolo e a questo punto prendo posizione anch'io perché Juan Jesus... Ma il concetto è di ero caldo sul campo. No no però Juan Jesus ha fatto così Francesco. Lui aveva tacciuto tutto. Quando a Cervi dice io non ho detto nulla Juan Jesus ha fatto il comunicato. A Cervi se ha detto questo l'ha detto perché dieci giornate di squalifica vogliono dire stagione e carriera forse... Juan Jesus è a San Siro quando c'è sta roba. Secondo voi ha la libertà di dire quello che pensa che pensa alla fine della bandida così concitata. No però Francesco dopo fa il comunicato quando parla a Cervi fa un comunicato ben preciso Ma perché il comunicato di Juan Jesus deve essere per forza il quello giusto e deve essere così e con di Cervi invece deve essere così? No sto dicendo che loro si erano chiariti secondo me Dopodiché Cervi dice non ho detto quello e Juan Jesus dice no scusa non prendi il perpì Se fossero chiariti non l'avrebbe spinto via in campo quando Cervi va a dire che sono una racista perché lo spinge via Quando lui dice sono cose di campo la cosa finisce lì però quando Cervi dice io non ho detto così e lui dice allora a questo punto se non l'hai detto non mi va bene che tu lo dici E' lì che si arrabbia perché vede la bugia ai suoi occhi di un giocatore che aveva perdonato In questo momento qua c'è un campo di ipotesi incredibile dove a questo punto il giudice dovrà essere molto bravo e soprattutto dovrà verificare se c'è una confessione del calciatore o se c'è una prova lampante Esatto Altrimenti diventa tutto molto complicato Se no è uno contro l'altro e basta Altrimenti ogni settimana qualcuno potrebbe dire qualcosa e mettere in difficoltà un altro calciatore Certo Quindi crei un precedente Dando una punizione senza prove o senza confessione diventa poi problematico che ogni partita qualcuno può dire quello Allora Tiziano Tiziano Poi vado in pubblicità e poi ritorno con Elena No Se disturbo Assolutamente No Ma anzi Voglio dire Voglio sapere che idea ti sei Io a una certa età ho vissuto una vita in campo a bordo campo fuori frequentando non mi stupisco perché poi dopo sono da condannare per l'amor di Dio ma in lo tempore se ne dicevano di cotte di crude crude dire uno nero sì è da condannare ma una volta dicevano anche in tempi recenti dicevano cose molto più pesanti spaccagli le gambe a quel compagnia bella insomma e io e tutti noi che abbiamo frequentato il bordo campo per un motivo o per un altro ne abbiamo sentite ne abbiamo sentite quindi allora sapete che cosa facciamo perché voi dicevate giustamente la parola non giustifico non giustifico niente nessuno dai uno spaccato di quello che è sempre successo in questo famoso triangolo di gioco che a volte è triangolo di inciviltà allora abbiamo almeno verbale abbiamo detto la parola di Juan Jesus contro quella di Acervi quello è il problema del momento ma può non essere un problema per la giustizia sportiva ce lo spiegherà Elena trovati allora Elena cerchiamo di far chiarezza perché tutti si domandano beh ma come farà il giudice sportivo il procuratore federale chi ne è prima il giudice sportivo a capire a dirimere questa vicenda quando c'è da una parte la parola di Juan Jesus dall'altra quella di Acervi qualora non ci fosse una prova tv ed è quella che stanno cercando un'immagine televisiva che sia la prova regina ecco in mancanza della cosiddetta prova regina cosa può succedere? allora io parto a spiegarvi questo che provare significa formare la convinzione del giudice dell'esistenza o meno dei fatti che vengono contestati nel procedimento qua siamo in ambito del giudice sportivo quindi il giudice sportivo basa la sua convinzione sui referti arbitrali ok? i referti arbitrali presumibilmente non erano così completi da consentire al giudice di formarsi una convinzione precisa sull'esistenza o meno dei fatti che vengono scritti ad Acervi ok? quindi cosa ha fatto essendo in bilico come convincimento ha dato mandato a Kinè il procuratore federale di cercare ulteriori prove ok? ma nel caso in cui a mio modo di vedere Kinè non trovasse prove che forti che dimostrino che Acervi ha detto quello che scrivono tutti sui giornali a mio modo di vedere non potrebbe essere condannato perché vige il principio di presunzione di innocenza questo perché non è scritto nel codice di giustizia sportiva il principio di presunzione di innocenza ma lo si può ricavare dall'articolo 44 del CONI il quale prevede è che il procuratore federale deve archiviare qualora non trovi elementi idonei per sostenere l'accusa ok? quindi se Kinè nelle sue indagini non dovesse trovare degli elementi idonei dovrebbe relazionare al giudice e il giudice dato che ha rimandato a Kinè vuol dire che non ha in mano granché per poter condannare Acervi oppure Elena allora chiarissima come sempre oppure una sua idea ce l'aveva ma ha voluto dare un po' più tempo a questa indagine vista la delicatezza per vedere se ci fossero prove televisive in mancanza cioè il fatto che Juan Jesus come un indemoniato vada dall'arbitro la penna addirittura nel referto pare ci sia scritto che l'arbitro gli ha suggerito voleva sospendere la partita cioè ha creduto alla versione di Juan Jesus tanto da dirgli ma sospendiamo la partita poi Juan Jesus ha detto no perché Acervi si è scusato questo può creare un ragionevole dubbio sufficiente cioè come hai ragione tu la presunzione di innocenza ma può esserci anche lì dipende chi ne come ragiona la condanna senza prova senza prova secondo me dipende scritto l'arbitro se ha usato il condizionale o meno in base al racconto di Juan Jesus perché se ha riferito cose che ha sentito ha visto o che sono state riferite anche dai giocatori intorno magari certo però a questo punto non avrebbe no la prova no a questo punto non avrebbe scusa Elena a questo punto non avrebbe deciso lui non avrebbe mandato sicuramente nel referto non c'è ho sentito o che ne so Tizio mi ha detto che se no non avrebbe rimandato però comunque secondo me se ne esce male ma sicuramente è un bivio ormai è un bivio che tu hai se lo condannano a livello mediatico sicuramente a livello mediatico si cerca il colpevole un po' come con Calciopoli che è stata un qualcosa di populista cercare di alimentare il sentimento popolare anche in questo caso giustamente se Acerbi ha detto quello che parrebbe aver detto deve essere condannato e sottogliamo il codice di giustizia sportiva all'articolo 28 scrive almeno dieci giornate perché il codice è molto ci sono sempre come posso dire degli intervalli per le sanzioni in questo caso è molto transciante il codice di giustizia sportiva almeno dieci giornate e però se non ne prende neanche una che succede? se non se ne prende nemmeno una perché non è stato dimostrato che lui ha detto e viene fuori un pieno allora come la metti allora ricordatevi questo che la giustizia sportiva si basa sui principi di celerità e in teoria di dover tutelare i diritti dei consuciati ok? beh guarda lo dico contro il mio interesse l'anno scorso con la Juve non è stato così in teoria no ma io ho fatto usato condizionare in teoria dovrebbe e proprio la velocità e la velocità dei procedimenti lo insegna al caso Giraudo di cui abbiamo parlato prima per cui è finito anche alla Corte Europea e perché la celerità a volte non consente di dimostrare la verità certo la verità certo celerità è un'arma a doppio taglio lo si è visto benissimo non solo l'anno scorso ma anche come diceva bene prima quando si fanno quei processi sommari e veloci per dare solifazioni a chi sta fuori dai tribunali quindi ai tifosi oppure per non inquinare le stagioni che ci saranno delle cose tralasciate pesantissime allora questo è un discorso diventato andrebbe cambiata in generale perché poi mettiamo il contrario mettiamo che a Cerbi non abbia detto niente di tutto ciò Juan Jesus dovrà giustificarsi ma appunto abbiamo un altro colpevole rischia una diffamazione però mi faccio questa domanda rischi una causa Francesco ma se non avesse detto io a mezzanotte ho letto le dichiarazioni di Juan Jesus mi ha detto sei forlun a Cerbi adesso che siamo nell'era social se fosse stato accusato perché ha parlato quando il patatrack mediatico è venuto fuori io subito avrei detto ha parlato pure male quando ha parlato in ritardo è male perché uno non dice niente o parli subito o parli subito secondo me ha sperato che la cosa a me dicono che l'Inter non ha presa bene quella dichiarazione di Acerbi evidentemente ha commesso qualcosa appunto per fare cumulo che ha comportato da parte di Acerbi un entromarcio perché chiedere scusa in maniera così accalorata perché tu l'hai visto Acerbi o siamo tutti impazziti è ovvio che se tu guardi la scena vedi uno che impazzisce corre dall'arbitro gli fa cenno del coso dice non va bene perché mi ha detto si vede in quell'immagine cosa dice poi arriva Acerbi dopo che all'inizio sta fermo viene intervallata la discussione da Di Marco e si mette le mani in bocca e parla con Juan Jesus Juan Jesus non vuole saperne di parlare con Acerbi dopo un po' si vede l'immagine di Acerbi che gli va incontro e gli tende la mano dicendo che non sono razzista e l'altro lo spinge via quindi o Acerbi è un bugiardo patologico oppure Juan Jesus può essere altrettanto perché ripeto finché non c'è la prova nella giustizia ordinaria non sportiva se io dico a lui una roba del genere e lui la dice a me ma non c'è la prova di mezzo o non c'è un altro testimone che ha ascoltato è la mia prova contro la sua finisce lì nello sportivo spesso e volentieri come dice giustamente lei non è così per cercare l'accelerità non trovi la verità trovi una roba che accontenti così con irragionevole dubbio ti può rimanere irragionevole dubbio non è un reato a me fan strano due cose la Federcalcio che smentisce e intanto Acerbi torna a casa quindi vorrei capire cosa ha detto la federazione per essere rimandato a casa e la seconda che ci sono giocatori in passato che Ibra perché dice scimi a Lukaku e lì è stato visto il video l'anno scorso Lukaku si becca dei burazzisti da tre imbecilli a Torino e si fa una discussione su tutta la curva della Juve quando in realtà sono tre imbecilli che fanno il bu e devono essere allontanti a vita allo stadio e viene fatto Buffon viene squalificato perché bestemmia in campo senza pubblico quando era la Juventus come si fa oggi a non trovare una soluzione tra arbitro var ma Ibra con Lukaku non era stato squalificato come no? non è stato squalificato per Lukaku? non è stato squalificato Ibra ha preso il rosso è stato fuori il ritorno di Coppa Italia ma per aver detto scimi non è stato condannato cioè anche lì era una pena che poteva essere più pesata beh ma direi è sicuro? no io ricordo che è stato espulso io ricordo di sì adesso vado a verificare Comi cosa hai ai tuoi tempi ha ragione Tiziano che certi comportamenti ahimè beh intanto c'erano pochissimi stranieri dei miei tempi solo nell'ultima parte c'erano poi tre stranieri per squadra però sicuramente delle parole all'interno del campo di gioco ci sono sempre state e anche pesanti a volte ecco adesso Tiziano c'è questo grande fratello questa lente di ingrandimento siamo nella giornata mondiale contro il razzismo c'è una lotta ragazzi per una parola del genere in quel programma che hai appena nominato ho visto uno quasi rovinarsi la carriera a 70 anni quindi non è che dobbiamo fare improvvisamente quelli che dicono no ma per una roba del genere per una roba del genere perché vengono inquisiti tutti oggi perché non è più accettabile ma cosa è successo ai mondiali quando viene espulso Zidane con Materazzi io non lo so però facciamoci delle domande allora ah certo certo sicuramente c'è una severità che qualche anno fa vuoi per la mancanza di attenzione mediatica di telecamere di anche sono anche i social che aiutano di portare a galla queste cose certo ma poi i social portano a galla tutte queste cose guardate video sono cambiati e anche è cambiato l'approccio che si hanno sicuramente perché vi ricordo Antonio giocava in quegli anni c'era gente che andava allo stadio con la banana gialla tu te lo ricordi certo ma di peggio ma per fortuna abbiamo fatto Elena ti ricordi anche tu quindi io ero al campo a vedere una presa giovanile arriva un vecchiotto di mezzetta e dice ci sono anche i negri ma l'ha detto tutti si girano e lui diceva una volta li chiamavamo così tra virgolette quindi c'è un adeguamento alla socialità che va a fare io racconto sempre un episodio ormai sono ripetitivo che riguarda addirittura a mio figlio giocava giocava nelle giovanili delle giovanili del Cimiano poi è andato anche a Mila e a un certo punto al Cimiano stava giocando a mio figlio si è alzato il papà di un giocatore dell'avversario di mio figlio indicando urlando a suo figlio e indicando a mio figlio spaccagli le gambe a quel milanista di M cioè voglio dire una partita di ragazzini ma lì è un nuovo mondo una partita di ragazzini un papà ci sono dei rischi se ci dispone che c'è un'instituzione della violenza è un qualcosa secondo me di altrettanto malavasi che era presidente eccetera intervenne e lo buttò fuori dal circolo ha fatto bene poi malavasi non è uno che ha mezzi misure bravo Tino Malavasi e pensa che è una delle cose minore che ho sentito andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ha detto a Cerbi abbiamo un virgolettato del difensore neroazzurro tra l'altro piove sul bagnato in casa Inter perché è un problema muscolare ritorna dalla nazionale De Vrij e quindi si profila qualora venisse squalificato ovviamente a Cerbi un'emergenza in difesa cosa cosa perché ride pensa alla rimonta sardonico ah pensa alla rimonta il rimontum devi modrum la rimonta no dai ragazzi se succede la rimonta è meglio che chiudiamo Burak lo so io adesso aspetto i ticidi a Cerbi ma nel frattempo vedo perché lui è quello che è rimasto sta bene di gamba si vede va bene corre bene l'Inter di colpo Lautaro non segna più Duram sembra il fratello di quello vero hanno anche loro però con Benassere devo dire anche Benassere si è fatto male si ma scopo precauzionale è tornato a casa è diverso da De Vrij e Magnano non si è allenato con la Fran vabbè comunque abbiamo ticidi a Cerbi e vedi fino a due settimane fa non le guardavo queste cose e Caluno ce l'ha fatto male abbiamo sportieri abbiamo le alternative abbiamo i giocatori che entrano nella panchina e segnano 13 gol io Giovanna dopo ti devo dare le notizie sulla Juve ma non so ancora se posso dirla sto cercando di capire se posso dirla noi abbiamo tempo fino a mezzanotte io non la so no è una cosa a livello dirigenziale importante però sto aspettando perché se non mi dà il permesso questa persona è meglio che aspetti la prossima puntata per evitare Casino per carità hai fatto bene a dirlo perché teniamo un po' di anch'io sono curiosa non so nulla non hai detto niente di dirlo in serio sarei curioso Elena viviamo fino a mezzanotte il bianco diventa azzurro no sogna bello con questa speranza che ce la dica e io Giovanna perdiamo la scarpetta a mezzanotte esatto esatto cioè speriamo di non trasformarci di perdere solo la scarpetta che nessuno si trasformi le scarpette di Cederento ma scusa ma andiamo avanti a parlare di Acerbi no no allora Acerbi eccolo qua non ho detto nessuna frase razzista poco ma sicuro sono molto sereno e ora dico un bel vaffa al razzismo frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite Juan Jesus potrebbe aver capito anche male io so che non ho detto frasi razziste sono vent'anni che gioco a calcio e so quello che dico la nazionale e quello che è successo lì sono cose nostre mi spiace aver dovuto lasciare il ritiro però è andata così ed è giusto così poi ci sono le dichiarazioni di Juan Jesus perché ovviamente Juan Jesus dopo averlo perdonato dopo aver detto tutto quello che finisce nel che inizia nel triangolo di gioco il rettangolo di gioco ma perché è giusto così se non ha detto niente perché ripeto secondo me ha detto nella dichiarazione che hai letto però è giusto così ha detto no è giusto che sono tornati indietro perché si vede che in attesa che il giudice si propone finite finite che c'è una roba che mi stanno in mente interessante sarebbe stato più coinvolto nel dire un'ingiustizia una calunnia Juan Jesus possono fare le indagini che vogliono e Juan Jesus ha replicato per me la questione si era chiusa in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire ora però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti con quanto detto da lui stesso sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono così non ci sto il razzismo si combatte qui e ora Acerbi mi ha detto vai via nero sei solo un negro in seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche per me negro è un insulto come un altro oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista non ho nulla questo è brutto perché vuol dire che se anche uno Tiziano mi facesse arrabbiare o chiunque mi facesse arrabbiare mai nella mia testa mi verrebbe di insultarlo da un punto di vista razziale e quindi vuol dire che nella testa di qualcuno c'è questo background cosa c'entro io con un razzismo certo mi hanno detto sei un bilanista di M me ne hanno detto più di uno quello è vero perché è razzismo io ci credo che non abbia voluto posso dire cosa c'è sei un bravo ragazzo io posso anche credere che non l'abbia voluto insultare che Acerbi non sia un razzista però la frase che ha detto è una frase se la detta che è nel suo vocabolario nel suo cervello ti faccio ti faccio una contraddomanda la faccio a tutti voi una contraddomanda da garantista visto che io non voglio accusare qualcuno se non c'è la prova schiacciante però di fronte a queste cose c'è un botte risposta del giorno prima Juan Jesus riprende la parola e qua sottolinea più volte possiamo rimandare il testo per favore possiamo vederlo un secondo grazie ragazzi velocissimi allora lui dice e sinceramente avrebbe di tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire cioè ricalca la mano di più il giorno dopo ok poi dice che rilegge eccetera eccetera così non ci sto il razzista si combatte qui ora Acerbi mi ha detto vai via nero sei solo un negro e in seguito la potenza con l'abito ha messo di sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche per me è negro è un insulto come un altro allora se io fossi Acerbi e non ho detto quella parola sai cosa faccio un secondo e mezzo dopo chiamo il miglior avvocato possibile e lo querelo per diffamazione perché mi stai rovinando la carriera dal punto di vista etico e morale anche perché i calciatori oggi sono delle aziende se Acerbi ha detto una roba del genere o è presunto che l'abbia detto nel momento in cui succede questo patatrac per due settimane un mese tre settimane sapete quanti soldi perde un calciatore il giorno d'oggi per una roba del genere altro che Ferragni quindi il concetto è perché nessuno qua a questo punto dice adesso basta di querelo perché sta dicendo stronzate scusate il termine perché o Juan Jesus è impazzito ma mi sembra ricalcare la mano in modo molto più deciso la volta dopo quindi ripeto io sono garantista e aspetto di capire bene le cose come sta però la non reazione di Acerbi però io sarei già dall'avvocato da un minuto e mezzo dopo se mi risuccede questo e io fossi Acerbi Elena potrebbe farlo anche dopo ti concordo assolutamente anche perché in questo caso veramente Acerbi rischia la risoluzione da parte dell'Inter e poi domandiamoci quale squadra può prendere un giocatore che comunque è ormai etichettato come razzista nessuno è uno che prega prima delle partite da un esempio del genere lui sta un quarto d'ora a pregare così e poi dopo fai questo è ancora peggio è ancora peggio se è così è però ripeto a me le parole di Juan Jesus mi spaventano la seconda volta sono molto peggio della prima cioè si capisce che lui ha percepito le scuse va bene ha lasciato correre per evitare casini all'altro quando ho visto la dichiarazione ho detto adesso basta mi sono spufato è quello che dicevo io prima quindi mi sembra che qua il lavoro perfetto dovranno fare gli avvocati a Cervi se no Cervi rischia perché se no Juan Jesus è impazzito problema se fosse vero anche considerare nel novero degli insulti normali quella parola lì vuol dire che c'è un'ignoranza di base nel senso che ignora non era aggravante pesantissima se è successo anche quello però l'arbitro non sa niente di tutto ciò l'arbitro non ha sentito nulla l'arbitro era disposto a interrompere la partita perché ha creduto a Juan Jesus di fronte a una situazione del genere di razzismo come ha fatto Mignan che se ne è andato e l'arbitro ha accolto però lì ha sentito esatto prima di tifosi vabbè ci sono i deficienti la penna avrebbe sospeso ha detto Juan Jesus vuoi che sospenda la partita e Juan Jesus per i motivi di approccio mite che abbiamo visto anche nei confronti di Cervi ha detto ma no dai poi dopo vedendo che Cervi insomma smentiva tutto quanto insomma ha rincarato la dose e comito io mi rendo te l'hai con me stasera vuoi sapere da me tante cose no perché tu sei un addetto ai lavori no ma tante sapevi benissimo che altro che questo no ma sì 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 però non è giusto cioè se non era giusto io noto un comportamento di Cervi come diceva prima Oppini che gioca sta giocando in difesa sta aspettando di cosa succederà per eventualmente fare delle pratiche future no a livello proprio di tutela personale oppure perde e perde e finisce il discorso certo che c'è un'altra situazione è chiaro che se perde perde tanto se Juan Jesus dice ci sono il labiale che chiede scusa la giudice dirà perché chiede scusa certo questo deve essere una cosa perché viene cacciata dalla nazionale perché la felicità sventisce ci sono tre cose grosse da chiedere questo è una Tiziano in effetti è quello che dicevi tu perché ti scusi perché vai là se c'è cosa che numeri stava guardando i numeri i numeri del sorpasso lascia stare che è focalizzato nel sorpad stavo guardando un articolo che parlava di te allora continuo posso vedere no dai ti ha fatto una domanda no ma chi la Giovanna no ma guarda mi ha fatto una domanda sì ma ti faccio saremmo in trasmissione lei non fa domande fa una domanda la risposta era rapida e la conclusione ho detto che giustamente parla per 52 però la tua conduttrice deve far parlare gli ospiti come non dici niente ti chiami leggi il libro scusa ti ha chiamato come non dico niente sembra a Cervi con quel genere Tiziano scusa ma ti ha tirato in ballo e tu leggevi il libro sembra a Cervi con quel genere ti ha tirato in ballo e leggi il libro scusa io in questo caso farei parlare l'avvocato la signora Elena che è molto più addentrata di noi no dicevo che il fatto di aver chiesto scusa è un po' un indizio ecco può insinuare anche nel procuratore federale chi ne ha il dubbio che l'insulto non sia stato ma vacia pairat ecco che è un insulto milanese che uno si può anche pigliare e portare a casa senza scomodare l'arbitro questa potrebbe essere una però certo non dobbiamo neanche fare processi in studio per carità interpretabile anche no ma però secondo me siccome dobbiamo commentare delle supposizioni certo ti chiedo scusa vuol dire che come dicevo prima devi contare fino a 10 perché magari gli è scappato qualcosa bisogna vedere se c'è il labiale ti chiedo scusa non sono razzista perché a quel punto se ci fosse quel tipo di labiale credo che una prova indiretta di colpevolezza lui dice a Wang Jesus non sono razzista quello proprio si vede benissimo quando Wang Jesus poi se ne va dice non sono razzista lo sai che non sono razzista quello dice lui ad accedere a Wang Jesus uno può dire non sono razzista perché tu mi stai accusando in quel momento lì che io ti ho detto ma in realtà non te l'ho detta è tutto un gioco la cosa importante sarebbe trovare proprio l'immagine dove lui dice a è quella che manca oggi è certo è della cosa importante però io allora Cerbi che calmo non arrabbiato perché se lì fosse arrabbiato perché ha sentito Wang Jesus andare dall'arbitro glielo direbbe a muso duro oh ma cosa dici non sono un razzista e lui lo dice ha capito male non sono non lo so Elena non vorrei essere nei panni di Chinè no ma comunque è una strada ne esci male comunque mi fa per rivedere cosa ha detto a Cerbi poi cosa cosa e poi il giudice non nei panni di Chinè sì del giudice sportivo sì è il giudice sportivo che dovrà decidere sicuramente non è convinto né che sia successo né che non sia successo perché se no non avrebbe rimandato alla procura federale l'apertura dell'istruttoria perché l'apertura dell'istruttoria davanti al giudice sportivo è rara come cosa ma lui aveva detto Elena scusa lui ha detto rimando alla procura federale perché non hanno elementi che completino un'eventuale decisione quindi vuol dire che c'è qualcosa di monco e quindi in questi giorni o è nato qualcosa oppure può anche essere che non succeda nulla ma a quel punto lì apriti cielo ma il monco è proprio il labiale dell'offesa che dice quindi è determinante quello allora vediamo tu volevi rivedere le parole ragazzi sono gettonatissime ridatemi le parole di Acerbi grazie carini Tuccella Grisari vediamo un po' e il nostro Bonfanti sempre presente perché dalle dichiarazioni di Acerbi e Vinci dimmi dimmi un po' Ioan Gesù potrebbe aver capito anche male quindi se io chiedo scusa perché tu mi stai causando di una cosa che io non ho detto però qua c'è un condizionale su una frase riporata in campo mentre l'altro è convintissimo di quello che dice lui Juan Gesù lui qua non dice ha capito male usa l'indicativo che è presente però lui secondo me questa è già una una frase interessante da un punto di vista legale però va a cozzare con quello che ha detto in stazione ci sono delle controversie ma in questa dichiarazione l'altro è sulla linea d'onda identica lui no lui dice Juan Gesù potrebbe aver capito anche male quindi dovessero richiedergli perché hai chiesto scusa lui ha capito male quello che ho detto e allora gli dici hai capito male gli dici non sono un razzista però voi dite gli avrà potuto però Juan Gesù che gli dice perché mi hai detto del nero però scusami io dico ma io non sono un razzista lui può inventarsi le cose se uno mi accusa di essere stato razzista qui è un gioco di parole ormai io ti denuncio per diffamazione un secondo dopo se lo fai perché mi stai mettendo in difficoltà su una roba che non ho detto se sono convinto di non averlo detto se è ovvio che se c'è un filmato sto zitto è quello che mi fa pensare molto io ti dico questo Comi tu sei ancora giocatore un giocatore un tuo avversario purtroppo no un tuo avversario ti accusa di aver detto una cosa brutta lascia stare le razziste tu non l'hai detta c'hai i baffi sporchi Tiziano per dire che prendi sempre il tiziano ti immagino la litigata tra di loro perché fai questo perché fai quello tu la metti se è un baffone uno ha subito e l'altro ha fatto sono davanti in tre punti in classifica ma perché ti scusi su una cosa che non è tu gli dici scusa guarda caro io non l'ho detta quella roba lì oppure dici ma cosa dici io direi ma che cavolo dici certo ma ognuno reagisce alla sua maniera e quindi è tutto opinabile è una reazione dove dici no ma io non sono razzista oppure ma che cacchio dici sono due cose diverse sono la stessa cosa ma sono due cose diverse sono due comunicazioni diverse ma il succo è quella se fossi una profiler direi che quello che si sente accusato ingiustamente dice oh quello che invece l'ha detto dice scusami però magari ai miei tempi se non c'è la prova non rompere il problema è che ci sono delle visto che i social poi i video girano in tutte le reti del mondo quando tu vedi un video di Acerbi che in area di rigore guarda Tonale alle sue spalle che stava guardando il pallone arrivare e lui guarda il piede e gli dà un pestone apposta volontariamente e poi si allontana io non vedo molta sportività in tutto ciò e quindi mi fa pensare male bene però posso dirti una cosa io sono stato un calciatore ho giocato tanti anni i difensori così sempre fatto sempre fatto giusto sì sempre fatto di farti sentire ma certo di tirare volontariamente un pestone con i tacchetti sul piede di un giocatore avversario adesso ci sono 20 telecamere e oggi ne sono 50 però adesso ci sono 20 telecamere che una volta non c'erano ma puoi capire no no ma lo so benissimo che si faceva anche all'epoca però no si faceva solo all'epoca adesso lo vedi pochissimo anche adesso quando perdi la brocca anche adesso allora facciamo un giro così per chiudere il discorso guarda Vlaovic ma guarda guarda gli stessi allenatori ma certo guarda Vlaovic domenica domenica 50 telecamere addosso ha fatto quello che ha fatto per me 30.000 euro sono pochi più uno che guadagna quei soldi lì ah bello perché comunque siamo e sono personaggi pubblici che devono essere degli esempi esatto bravo quello è il problema quello è il problema pugno duro e non c'è un precedente di un calciatore che dice una roba del genere a un altro calciatore in campo in questi tempi cioè un conto è il cretino in curva il bu la banana e lì vai a prenderlo d'aspo perché uno d'aspo il calciatore no? eh no ma certo spiegatemi per il cacciatore di giornate e il tifoso a vita è un conto ma tra le maggior ragione il d'aspo lo vanno a beccare perché vedono le immagini ma perché il tifoso al d'aspo il giocatore non può vero? no certo che se c'era scritto se c'era il labiale erano già dieci giornate da martedì no non dieci perché non c'è il d'aspo no 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 Francesco torno a quello che ho detto prima almeno dieci giornate se no una pena temporale con tempo determinato ah ok 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 cioè potrebbe prendere fino al 30 giugno 30 settembre cioè a mesi diciamo a tempo esatto più di dieci giornate un tempo maggiore di dieci giornate determinato due mesi e mezzo due mesi e mezzo Tiziano tu cosa che approccio hai avuto perché poi stadio porta aperte rimane come? stadio porta aperte se lo fa un cretino in curva su 50 mila si chiude lo stadio se lo fa il capitano della squadra in campo stadio porta aperte queste sono le regole beh sai a San Siro sono già successe casualmente col Napoli altre questioni succedono in tutti gli stadi no però ci sono questi lampi no no però lì a differenza di altri sì però lì a differenza sempre col Napoli tra altri vi ricorderete Coulibaly lì è stato chiuso San Siro non è mai successo in uno stadio completamente a porte chiuse per urlati nazisti Tiziano che ci sono da tutte le parti chiaramente cioè non è che ti chieda di sostituirti al giudice sportivo però la tua sensazione è pugno duro per evitare che succedano e che sia da esempio a volte c'è sempre la prima volta ed è esemplare oppure in mancanza di una prova certa no no in mancanza di una prova certa non ci può essere una condanna cioè queste prove queste deduzioni anche perché la sanzione si è detta al minimo 10 giornate e addirittura può essere tutto l'anno fino all'anno prossimo e compagnia bella guarda che questa è una condanna quindi deve avere delle prove certe documentate guarda che questa è una condanna altrimenti il tempo che trova a qualsiasi tipo di dichiarazione cioè questa è una condanna anche se le scuse e compagnia bella eccetera sono una dimostrazione che qualcosa è stato detto ma che cosa sia stato detto bisogna provare se non c'è la biale finisco veloce è una condanna che va oltre l'aspetto sportivo perché se a Cervi prende 10 giornate per razzismo innanzitutto non va gli europei ok si gioca al contratto con l'Inter e potrebbe essere a rischio e beh però come viene etichettato come si danna che ti erano attestati però se prende 10 giornate se a Cervi viene condannato anche per una sola giornata l'Europa non ci va ma certo giusto questo mi sembra chiaro beh non è detto se viene squalificato per una mezza frase razzista dopo ne parleremo dal discorso che fa Spalletti a Cervi nazionale però Spalletti dice anche se ne è parlato di più di quanto sia stato fatto quindi da questo punto di vista io non vorrei che se fosse una condanna senza una prova certa anche la posizione di Spalletti sarebbe diversa non lo so però è un argomento io credo che ne escano male tutti comunque ma se prende 10 giornate anche solo una giornata a Cervi non fa l'Europa ma infatti uno degli scenari probabili è anche questo che potrebbe saltare l'europeo ben ritrovati ben ritrovati stavamo già ci stavamo già portando avanti fra poco il codice Spalletti con il vademecum che un buon azzurro deve portare con sé sotto il braccio imparare a memoria se vuole essere della corte di Spalletti prima però arrivano le dichiarazioni di Turam io quando ho letto Turam parla di Acerbi sinceramente non so voi qui è la serata della sincerità credevo che dicesse altre cose conosco il mio compagno non direbbe mai frasi razziste molto probabilmente c'è stato un fraintendimento invece Turam insomma non lo assolve ecco non dico che lo colpevolizzi perché nessuno può farlo in mancanza di prove certe ma non lo assolve razzismo in campo io sono d'accordo con Megnan dobbiamo lasciare il campo in questi casi dobbiamo battere i pugni sul tavolo per far capire che questo è inaccettabile la situazione di Acerbi quando c'è una procedura così grave in corso è giusto che il giocatore torni nel club per difendersi o dire cosa è successo non è il momento di andare in nazionale quindi quando ci si chiedeva ma perché ha lasciato la nazionale se è innocente te l'ha detto Turam il perché la nazionale è rappresentanza ok quindi la maglia azzurra è rappresentanza poi ripeto su questa cosa il CT ha approfondito il discorso come dicevo prima tu hai un procedimento in corso che tu possa essere condannato o meno per necessità virtù devi abbandonare il ritiro perché oggi secondo me come non c'è la certezza che sia stato ma non c'è neanche cioè hai un procedimento ah no certo hai chi ti accusa di una cosa gravissima lui dice è giusto che il nazionale non ci vada se c'è un procedimento in corso e allora a questo punto però viste le regole che sono stringenti soprattutto quando si indossa la maglia azzurra qualora a Cerbi perché parliamoci chiaramente adesso siamo a un 70-30 70% che venga condannato anche senza una certezza di prova e 30% che venga assolto siamo più o meno su questa forma siamo nell'ambito della giustizia sportiva giusto ok e allora a questo punto dovesse prevalere il 70% e quindi ci fosse una condanna mi state dicendo che potrebbe salvare saltare per una questione etica come l'europeo quindi Spalletti non sentirsela anche se potrebbe convocarlo non lo convocherebbe si potrebbe secondo me salvare da risoluzione per giusta causa perché non c'è una prova eclatante lui farà sicuramente ricorso se succede una cosa del genere poi bisogna vedere però la posizione della società in merito bisogna vedere la sospaziazione dell'Inter però ripeto per come conosciamo Spalletti e per come conosciamo le nuove dinamiche se tu prendi anche una sola giornata per razzismo secondo me la nazionale non ci vai Tiziano sarebbe in caso di condanna condanna con prova schiacciante o condanna senza prova schiacciante c'è la condanna giusto non farlo andare e ti porti indietro un'etichetta che è decisamente scomoda è antiproducente certo sia per quanto riguarda la squadra sia per quanto soprattutto per quanto riguarda anche la nazionale eh sì è una roba è un brutto affare quando diceva Comi farà ricorso se qualora dovesse essere ecco ma ci sono a margini poi di ci stiamo portando avanti perché non è stato condannato arriverà prima del del ritorno del campionato è comunque in settimana questo deve arrivare deve venire per forza assolutamente c'è il campionato che riprende certo assolutamente ma ha qualche come dire possibilità di azione Cervi se dovesse essere condannato come ricorso piccolo dinanzi al giudice se ci sono degli elementi per appellare certo che si appella come sinceramente appellerei se venisse data una sanzione superiore alle dieci giornate del tipo cinque mesi ok mi hai dato cinque mesi io appello magari me ne prendo quattro certo certo quindi sia per l'entità che per la sostanza insomma della sentenza sotto le dieci non si può andare sicuro però anche lì bisogna sempre vedere nel fascicolo quali sono gli elementi se il giudice ha motivato per bene o non ha motivato davanti al al coni lì si può andare invece solo per motivi di legittimità e quindi lì è più un punto interrogativo certo cioè davanti al più difficile per motivi di legittimità la sentenza della Corte d'Appello Federale allora sapete che cosa facciamo adesso non lo so perché cambi un po' la scaletta non so se è pronta la formazione anti-Venezuela che è un po' una formazione che è sperimentale no? Spalletti lo ha detto chiaramente prima di andare giù pesante con quanto detto riguardo alla Playstation ai giocatori beccati fino alle 4 di notte a giocare ha detto un'altra cosa forte Spalletti ha detto che è una specie di porta aperta quella della nazionale si può uscire facilmente e si può anche entrare facilmente cioè non ha in testa Francesco un 11 di solito eravamo abituati si andava agli europei mondiali con una squadra che conoscevamo a memoria entrare facilmente in nazionale è un termine sbagliato scusa non ho capito entrare facilmente hai detto in nazionale beh abbiamo visto alcuni cioè se entri c'è un motivo tecnico che ti porta ad essere convocato non a entrare facilmente così perché hai fatto una buona partita no facilmente e allora usa un termine ma nel senso e usa un termine come si deve vai a scardinare le gerarchie guarda il giovane attaccante dell'Udinese che è stato chiamato Luca e non è stato Luca non è stato chiamato immobile cioè entri facilmente non che Luca sta facendo il mio immobile sì la verità da dire questa sera è che è una delle partite più inutili negli ultimi anni a livello di anche logistico perché è il senso di andare negli Stati Uniti andare negli Stati Uniti in questo periodo ma no è folle è di una follia allucinante questo è un altro però sai poi il club si lamentano ci sono trove partite eccetera però questa nazionale oggi vabbè ma tanto la Champions è una giornata ma la sensazione è che Spalletti non abbia un su 11 ecco Spalletti non ha un su 11 perché vuole prima dei giocatori vuole gli uomini e soprattutto là davanti non ha deciso con chi giocherà tu lo sai beh non c'è neanche tanto materiale secondo me no per me se adesso ci stupiamo del metodo Spalletti io sono d'accordo con lui cioè lui deve consolidare un gruppo di giovani deve far capire come funziona la nazionale esattamente come ha fatto il Napoli in questi anni che ha fatto benissimo l'anno scorso vi ricordo come è partita la stagione degli azzurri nel ritiro estivo dove si davano dei pazzi ha aggiuntoli per aver preso Kim e Kvara Scheglia dopo aver venduto Insigne, Mertens e Koulibaly e in realtà lui ha cementato un gruppo facendo capire cosa vuol dire giocare in Italia e il nazionale sta facendo lo stesso perché vede che in questo momento magari siamo troppo lontani dalle competizioni vere e quindi vede tanti ragazzi che arrivano e fanno un po' quello che gli pare convinti che la nazionale sia un po' un premio e quello che devi fare è questo lasciarli lasciarli sfogare il giusto ma fargli capire che non possono fare tardi che devono rimanere concentrati perché sono atleti comunque quindi fa bene lui a fare i discorsi che fa da padre a questi ragazzi a padre sportivo ci sta ci sta perché se tu mi dici la porta nazionale è aperta per tutti non è chiusa per nessuno esatto mi fa capire che devo stare sul pezzo rimanere concentrato e dare il massimo lui deve vedere e capire chi portarsi alle competizioni che contano a breve nei prossimi mesi e questi sono i mesi in cui ci sono molti cagli di tensione perché ci sono squadre che hanno già avuto tutto la stagione ci sono squadre che possono magari spingere un po' di meno ci sono squadre che possono spingere di più tipo il Milan in questo caso che ha l'Europa League ancora portata di mano ci sono squadre come la Lazio che ha giocatori italiani che deve magari rimontare quindi fare ci sono tante situazioni da analizzare quindi Spalletti fa bene a tenere tutti sul pezzo in un momento in cui è difficile pensare la nazionale come la cosa principale perché anche i ragazzi stessi pensano secondo me a quello che dice un po' Riccardo cioè andiamo a giocarci in America facciamoci vedere ma queste partite A sono amichevoli B non servono a nulla e non è la prima che mi tratta se non permette a fare gruppo attenzione Spalletti non è la prima volta di andare a fare un volo transoceanico quando potevi farle tranquillamente ed erano anche meno spingiose da un punto di vista energetico con tutto rispetto non asfaltano l'autostrada di giorno 10 ore al sole no per carità ma anche il muscolo ne risente allora se Spalletti addirittura dice che non dormire allora neanche giocare alla Playstation alle 3 incide sul mio rendimento sono 20 anni si si sveglia le 7 dormi 3 ore chiediamo a chi ha giocato a pallone non puoi dormire 3 ore dormire 8 o meno però Giovanna 8 ore non ho mai dormito è vero c'erano dei giocatori che non dormivano di notte ma dai eppure giocavano mi ricordo ad esempio diceva Tardelli che l'ho avuto anche come allenatore erano dei ragazzi che facevano fatica a dormire di notte ma per la tensione però Giovanna però ci sta che uno dorma allora se guardiamo le cose che fanno bene non fa bene dormire meno di 8 ore così come non fa bene andare dall'altra parte del mondo e magari i muscoli Turan dice che se non dormi 10 ore sta male ha detto l'unica intervista io si dormo 10 ore sta male no ma 10 ore non ci arrivo neanche se mi martellano a destra io neanche a 7 però un atleta non può dormire 3 ore c'era che può stare lì fino alle 4 ehi t'abbosto sono i 5 di mattina ma proprio perché magari non ha quella stanchezza di chi asfalta in autostrada e ormai giocano tutti perché tu hai detto come da buon padre ma ti riconosci Giovanna ma io sono d'accordo con voi sono dipendenze sono dipendenze ma non le riusciamo a estirpare dalle nostre famiglie ci sono ragazzini che stanno ore davanti e i professori non possono fare nulla c'era un calciatore della Juve c'era un calciatore della Juve fortissimo che oltre a avere problemi fisici non giocava per questo tipo di problema e ha avuto un incidente anche in autostrada vicino a Torino per questo problema qua bagno schiuma? no no quello è un altro problema però sono delle patologie sono patologie anche queste hai ragione ho capito come Spalletti fa bene che si apre la porta alle 4 di mattina e trova due che giocano e ti svegliano alle 7 però non è la prima volta che Spalletti perché stavolta si appella alla Playstation ma in tempi non sospetti anche il giorno della presentazione lui aveva detto ragazzi guardate che venire qua non è scontato secondo me lui ha capito se vuoi fare il salto di qualità ha capito che deve tenere tutti sulla corda e il fatto che ad esempio I Nobili sia uscito il fatto che Zaccagni che è stato uno dei più più bravi nell'ultimo periodo prima di Natale veniva escluso perché magari una volta perché lui si è molto segnato quella partita con l'Ucraina in cui molti hanno cominciato a dire ho un risentimento vado a casa non mi sento di fare 90 minuti lui secondo me questa cosa se l'è presa allora vediamo voglio sentire cosa pensano Crudeli Comi e Pisani sulle dichiarazioni di Spalletti Spalletti aveva detto era già come hai detto tu giustamente Fusato aveva già parlato di questo eh Spalletti pensate che Spalletti non ha i dentini che a Baia non morde invece io mi sono stufato dei giocatori che prendono sotto gamba la nazionale già a febbraio e queste frasi pare che abbiano insomma non proprio fatto piacere al gruppo azzurro no? essere un po' così diciamo i panni sporchi lavati in piazza pubblica poi è tornato l'altro ieri su questo concetto andando più nello specifico e più pesante ho le prove che qualcuno la notte prima di Ucraina e Italia non ha dormito per giocare alla Playstation non mi si può dire siamo abituati così è possibile per un professionista sarebbe stata la stessa cosa se avessi visto una fiction è una dipendenza inoltre dormire fa bene lo dicono i dottori se uno vuole sputtanarsi il tempo che ha faccia come gli pare ma non viene nella mia nazionale e poi ha aggiunto un'altra roba anche sul lettino quando si fanno massaggiare il massaggiatore gli ha detto che avere il cellulare in mano intesisce i muscoli e quindi non fa bene per cui lui non vuole che in quei dieci minuti di massaggio sia io dico Spalletti hai la mia stima tiziano se ne intende di muscoli di tensione crudeli mi intendo di che cosa gli dai un assi tu ti intendi di muscoli di tensione guarda che deve andare in pubblicità se gli fai una domanda del genere io non so più quando l'ho pubblicità cosa pensi troppo rigido troppo quando ti si indurisce il muscolo cosa penso di loro due quando ti si indurisce il muscolo tizi non è per via io vado a casa guarda che fisico atletico ha lui senza telefonino gli si indurisce il muscolo mentre gli fanno un massaggio voglio dire vado da come sei peggio di lei che parli per 52 che sprega parli per 52 tu più di lei come il poverino non dice la parola eppure potrebbe parli sempre tu basta vado via grazie credeli dove vai dove vai dove stai andando dove stai andando credeli guarda che la porta non è aperta per te non è come un ritiro azzurro che si va rimani qua rimani qua credeli io vado no che vai devi stare stai tu vicino a lui sto io vicino a lui vengo di qua ma scambi dai vai di là no no vado a fare la doppia pia allora dai però vicino a quello atletico mi piacerebbe stare dopo ci scambieremo basta che non sconfini no io credo che sono regole troppo rigide comi ma non passo stiamo scherzando cosa dire senti cosa dico vedi che continua a parlare ecco continua a parlare per forza non parli adesso litiga ma io non è che posso litigare con te tu non devi litigare tu sei il signore padrone qua dentro ma figura anche perché per parlare di calcio bisogna essere comi non bisogna essere opidi infatti tu dovresti parlare di altre cose nel frattempo Antonio non ho ancora parlato esatto vai vai comi io credo che Spaletti stia cercando di dare un'impostazione generale per tutti quei calciatori che devono arrivare nazionale quelle cose che ha detto sono delle cose di buon senso cioè se io sto facendo l'allenamento finisco l'allenamento ma io il cellulare non te lo faccio tenere sicuramente bravo dopodiché c'è il massaggio benissimo fai il massaggio quando tu hai fatto la doccia sei uscito ti prendi il cellulare e fai le cose che devi fare ma io credo che Spaletti stia facendo le cose normali che ogni allenatore di gran buon senso deve fare allora io sono d'accordo che siano le cose giuste normali non lo so perché siamo in una generazione in cui sta roba qua è una propagine della mano del braccio quindi io non so se nei club ma è sbagliato questo ragionamento però sì è sbagliato però tu vai a a metterti contro io vi interrompo vai 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 Elena c'è un rigore contro l'Italia allora allora guarda sei l'unica in questo momento sintonizzata quindi non abbiamo monitor che possano dirci l'evolversi diciamo così della situazione speriamo 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 allora intanto sai che cosa faccio io in attesa anche di capire questa cosa qua come andrà a finire vado in pubblicità perché ho visto l'orologio mi sono spaventata torniamo con il proseguio di questa conversazione che voglio sentire ovviamente anche Opini anche Taylor Tiziano manca manca Tiziano Tiziano su questo no ha detto che parlo troppo no tu devi parlare no ha detto che parlo troppo no perché scusa lei mi fa una domanda e tu continui a parlare e non ti fermi e cosa devo fare? parlo troppo no hai ragione hai ragione vado via alleluia alleluia